Jefferson per Mateus, il tunnel di Mateus, ancora per Monti, ha spazio per il destro, la traversa della porta difesa da serie, Mendes allaga per Mateus, ancora per Mendes, ancora Jefferson, ha spazio, Jefferson in sinistro, riparte San Biagio, attenzione San Biagio ci prova, il colpo di tacco era lì, Alberti, ma recupera Mendes, incredibile quello che sta accadendo, il tiro di Alberti e il gol, è il gol di Alberti, una cosa di Lugna, scusate, palla per Siero, la palla dentro, attenzione Antonietti ha recuperato la sfera, fermato Jefferson, il tiro, attraverso di Jefferson, incredibile, arriva Antonietti per Jefferson, sfiorato il palo alla sinistra del portiere con la puntata di Jefferson, Mendes, ancora Mendes, Mateus, Jefferson, si gira, la palla è dentro, deviata da Maggioni, entra, Mateus a spazio, prova al sinistro, sfiorata la traversa, pazio ora, Mateus per Monti, Monti per Antonietti, il tiro da rete, la rete, Mirko Antonietti, il nostro bomber, sale il classificatore, cannonieri, viene sotto il pubblico a fare il ballettino, 1-1, 11 minuti, 32 la fine, Mirko Antonietti, che si accentra, se ne va Antonietti, il dribbili, palla per Monti, Antonietti, fermato, la riflessa con Antonietti, Monti, incredibile, scatenato Mirko Antonietti, eccezionale recuperare la palla, Monti, Antonietti, non ci riesce Antonietti, deve poi servire Mateus, Mendes, palla dentro, Jefferson non ci arriva, la palla rimane lì, Monti, in piazzola la rete, la rete, la rete, ha segnato il capitano, Matteo, Monti, 2-1 per il Lec, dopo aver debuttato proprio Lecco nel calcio 5, è stato andato in prestito, attenzione, però Lecco ci riprova con Antonietti, che non trova lo spazio, Matteo, 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 Duarte, da Silva, scoppia il pallarogeno, Matteo, 3, San Biagio, 1, Lecco, 3, San Biagio, 1, c'è anche pubblico che si scalda, intanto la punizione del San Biagio, Cusignar para bene, attenzione, ora Lecco recupera palla con Mendes, Mateus, Mendes è ancora seduto in panchina, potrebbe essere importante la sua verve difensiva per questi momenti finali, intanto Monti per Matteo e la rete, la rete di Matteo, Matteo Duarte, la rete, vanno a ballare proprio i tre, Matteo, Jefferson e Monti.